Lo so che lui è allergico alla democrazia, perché ieri ha detto che lui va d'accordo con il 99% delle istituzioni e della politica del nostro paese, non so chi sia quell'1% contrario, ma viva Dio, se fosse così, manca lo sfizio di fammi sentire quello che dice l'1 rispetto ai 99, magari potremmo anche noi imparare e ci accodiamo ai 99, facciamo la carica dei 101, ci mettiamo anche noi e andiamo dietro al pensiero unico dominante del nostro paese. E' insofferente, come insofferente ai magistrati, poi ha fatto un attimo marcia indietro, ma è chiaro che l'indagio, anche stamattina leggevo delle intercettazioni, la guidi, la guidi, attenzione, la guidi, la guidi sta in cabina di regia, stava, in cabina di regia, su quella seggiola dove lui dice che io mi dovrei sedere, tenate la seggiola, perché in cabina di regia io non ci vado, perché a una cosa tengo nella mia vita e teniamo la nostra vita, di non essere complici di operazioni immorali, oltre che illecite, quindi là noi non ci sediamo, non ci sederemo mai, mai, anche se cambiano qualche soggetto, trovarsi in astasi di fronte nella vita, meglio stare in mezzo alla strada della nostra città, con tanta gente che non ha potere rispetto a queste persone utili a tutte le stagioni, non ci interessa.